Con Laura Bortoli, regista del Volle Soverato, presentiamo questa quarta giornata di campionato, uno dei big match di questo girone A perché il Volle Soverato ospiterà Pinerolo, una sfida che si annuncia avvincente, equilibrata, entusiasmante, ma un impegno importante per voi per riscattare il capo al tiebreak di domenica scorsa. Pinerolo è una squadra molto forte, sono complete, noi ci stiamo allenando bene, tutti fondamentali, aspettiamo con grande ansia domenica e quindi vi aspettiamo numerosi. Domenica è arrivata la prima sconfitta in campionato, però al termine di una prestazione comunque positiva su un campo ostico come quello del Sassuolo, cosa secondo te ha funzionato meno rispetto alle prime partite di campionato? Secondo me è stata una partita alla pari, alle volte purtroppo siamo mancate un po' di lucidità nei momenti magari importanti, però lo facciamo di questo comunque tesoro perché è all'inizio anche del campionato, però siamo state brave comunque a portare la casa a questo punto. Infine l'ultima domanda, tu sei praticamente come gran parte o tutta quasi la squadra nuova qui, primi mesi di permanenza soverato, un giudizio su questi primi mesi, sull'ambiente, sulla tua esperienza anche che stai vivendo? Sì l'ambiente è tanto caloroso, mi sono trovata subito bene comunque avere una seconda famiglia, per me che sono tanto lontana lo sento tanto, niente anche con le compagnie ci troviamo bene, stiamo lavorando duro dall'inizio e dobbiamo continuare così. Coach Bruno Napolitano, chi meglio di lui può presentare questa partita di domenica prossima? Big match con Pinerolo al Palascoppa per riscattare sicuramente la sconfitta di Sassuolo, è una partita contro una squadra ostica costruita per disputare un campionato importante? Riscattare? Io non parlerei di riscatto, nel senso che alla fine ogni partita ha una storia a sé, se entrassimo in campo con l'idea di riscattare ciò che è stato secondo me sbaglieremmo obiettivo, nel senso che è una partita da interpretare nel giusto verso senza pensare a ciò che è stato in termini di risultato, ma pensare a ciò che è stato in termini di cose che non sono andate per farle meglio, laddove ovviamente il livello dell'avversario è un livello alto, una squadra costruita per stare nelle altissime posizioni di classifica, noi dal canto nostro credo che dobbiamo viverla con la gioia di giocarcela, nel senso che comunque arriviamo in una condizione di classifica buona, dopo comunque tre partite in cui siamo andati sempre a punti, dove abbiamo fatto vedere delle cose buone e delle cose meno buone su cui stiamo lavorando, nella consapevolezza che il campionato è ancora lungo e non c'erà la partita di Pinerolo né uno spartiacque né in qualche misura un punto d'arrivo, ma anzi forse un punto di partenza. Presentiamo dal punto di vista tecnico questo avversario che vanta diverse giocatrici esperte di qualità in diversi settori del campo? È una squadra in cui hanno puntato molto sicuramente su un opposto di grande spessore come Zago, Boldini a palleggio gli dà comunque delle buone garanzie in termini di distribuzione, e poi è una squadra che è comunque molto equilibrata perché comunque Bussoli e Grigolo in quattro sono due giocatrici che ricevono bene, assortite per quello che riguarda l'attacco, due centrali molto buoni, Bertone che tra l'altro eligia da un po' di anni, quindi conosce l'ambiente. È una squadra molto equilibrata, ben allenata da Marchiaro, quindi è una squadra che non ha molti punti deboli ed è uno dei motivi per cui dico che bisogna giocarsela anche sull'entusiasmo, nel senso sì, qualche punto debole su cui poter eventualmente basare la nostra partita, forse potremmo trovarlo e anche trovandolo non è detto che riusciamo a giocarci sopra. È uno dei motivi per cui dico che è una partita che va giocata con entusiasmo, con entusiasmo, la gioia di giocarla in casa e giocarci all'avviso aperto senza fare drammi se dovesse andare male, senza esaltarsi, come sempre dico, se le cose dovessero andare bene, rimanendo con i piedi per terra in un campionato lungo che comunque, voglio dire, va gestito partita dopo partita.